Grazie a tutti. Cerco di non capirlo, cerco di non capirlo perché vuoi parlare con la mia, che è il trentino. Esatto, perché la lingua qua è il trentino. Esatto, e a Vignola soprattutto è il trentino. Esatto, come va qua questa azienda? L'azienda la va molto bene, fiori è tanti, clienti è molto tanti. Anche nonostante la crisi? Sì, e adesso arriva tanta gente da montagna, dalla Val de Leder, dopo da Pinzolo, dappertutto. Ma è cambiato un po' il tempo rispetto ai anni passi? No, sempre uguali, per me è sempre uguale, l'importante è lavorare bene e tenere i prezzi bassi. Ma è un consiglio per quei che vuoi mettere i fiori in casa in questo periodo, cosa tor? Beh, allora, siccome il tempo non è giusto, perché ha calde, fredde, alti e bassi, mi prenderia le begogne giganti, che sono quelle che non usano male, e faria una bella fioritura. E per i gerani, quei del pegol, che si dice il pegol, perché i gambol italiani, è il pegol bianco che resiste più. Ah, ma tutti questi vestiti, le vespe cinesi, per i castanieri. Beh, nel corse di mino, non entro, perché mi go solo fiori, e roba da orto, e do qualche consiglio, però... Zanzare tigre? Per adesso no, perché lì ho il gerano che scaccia le zanzare, le prepara via tutte. Ah, ecco, e questo è l'importante. Sì, è quel gerano là, che ghiacciamo anche la mamma rosa, che le bianche e verde, e il fanfiorellino rosa, e il dolore, il pomo. E sto qua e scaccia la zanzara tigre? Sì, se si mette lì insieme con la paletta, però. Ah, 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 l'ultima roba. Sì, dai. E stare in mezzo ai fiori, rende più contenti? Sì, parla. Resta, a parte il fatto che non passa 60 anni, ma non mi sembra neanche di averlo. Lavoro dalla mattina alla sera, soddisfazione tanta. Ma è vero che i fiori parla? Beh, se dovessi parlare con i miei, allora è sempre giro chi cacera. Ma a parte quello, no, ma i dischi... No, 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 non parla niente di fiori, no. Ma i vive? I vive con noi. Se noi che dovessi tramandargli a loro, allargli, ecco, trattarli come la trattai, se si viveva bene. Ma i dischi, per esempio, non so, hanno un certo tipo di musica, magari li fa crescere meglio? No, nessuna sera, non so, nessuna sera, o sento musica, o comunque che costa anche la corrente. Vima, troppo simpatica. Niente. E grazie, e se vi volete i fiori bei, eh? Sì. Eh? Vieni da qui. Eh, esatto.